Salve tu, io sono... Cosa? Sì, io sono morto, vabbè. Mi ha paccherato da un mio amico. Cioè, è abbastanza difficile. No, ce la stavo facendo! Tecchino... Sì, già so, dopo ho fatto una parte nuova bellissima, che ce l'ho finita, purtroppo. Ma perché manco un muro? Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Non me lo dici. L'hai rotto tu prima? No. No! Io non ho rotto niente. A me sta lagando così tanto, proprio. È passata una cosa. No, ho sbagliato l'ultimo salto, no! Cosa? Oh, ero... Ero praticamente immune alle trappole per un secondo. Oh, cavolo, non è facile. Ciao, tasto! No! Ho sbagliato! Ho sbagliato sempre l'ultimo! Sì, questo è un'altra cosa. Uff... Sì! Codice! Ce l'ho fatta! Sì! Non ci... Oddio, no! Cos'è questa cosa? Cosa ho visto? No, ho visto una cosa... Ehm, bo... No! Ero un... No! No, qui è l'ultimo pensi. Che è l'ultimo. Che è l'ultimo pensi. Che è l'ultimo pensi. vabbè è difficile questo è veramente difficile provo a fare una cosa no l'ultimo ho preso l'ultimo ho preso l'ultimo ok si vabbè dai è stato bruttissimo cavolo è veramente difficile no l'ultimo sempre l'ultimo sempre l'ultimo è stra difficile veramente non so perché mi dici che non c'ho l'ultimo nooo c'ero quasi c'ero veramente quasi sì sì ce l'ho fatta un po culo ma ce l'ho fatta sì un po tanto cioè io avevo io provavo anche difficoltà a fare quel salto lì per passare al checkpoint sì non dovevo prenderlo e adesso sì come faccio che cervellotico che sono sono riuscito perché sì l'ho fatto ma si può fare solo col carrello ma c'è una cesta e vedo una pistola un figata sta roba qui dei tizi una r figata sta roba dei robot che devi prendere l'arma successiva nooo c'è di lanciarazzi ti moro nooo c'è un rift e un jag jag ma aspettaaa ho paura non so cosa fare Aspetta, forse è la parte Eh, io ho paura Perché se magari uso il rift Aspettami un attimo Potrei spararvi un po' a caso Ho problemi Ma perché devo lasciare un razzio? Sì Sì Praticamente con lancerazzi Praticamente con lancerazzi sono andato Mi sono suicidato per sbaglio Bravo Ah ma sono infiniti Allora provo ad usarlo Il rift Ma lascia, ma aspetta Ma perché dopo non ci sono io? Ma se io ti colpisco Speedrun Ah ti colpisco Vado? Vado eh Oh mio dio che figata E qui? No vabbè E vabbè E qui? No È un po' difficile Eh cosa devo fare? Eh devi girare Oh mio dio che figata Perché sono morto È finita male Andando in centro E questo è bello Sì Madonna è fighissima Ma no Ma perché sono qua? Madonna è troppo bella sta mappa E direi che non c'è nessuno che troppo C'è realtà ma non c'è fiume Tutto è bella Dai non c'è voglia di andare lì Ho problemi Ma tu non ce l'hai la risposta Drift Ma devo andare in centro Veramente ho detto adesso Non so vado in centro Taglio il percorso invece No Ma doi difficilissimo Ho delle curve Vabbè io uso il Rift Ma il Rift Ma il Rift Dove ne ho fatto Il Bordo Stranamente da per me Davide Sali sul cannone Sali sul cannone Eh Provo a fare una cosa eh Spero Io uso le H adesso Sì ma poi dove si va a finire Dove? Ci ho finito Credo Ho sbagliato Ho fatto il giro Sì Ah io non ho mai coso Sei accorto di una cosa? Cosa? Ah ok No ho preso le chest È finito Sì Ma è troppo bella Sta mappa Adesso prova a fare una figata Ok bello Comunque spero che se vi siete iscritti Iscrivetevi Lasciate il commento E mi piace No aspetta Come? Shit Non è ancora finito? No Facciamo ancora un po' di cavolate O no? Non è finita la mappa La mappa si Però possiamo fare ancora un po' di cavolate A caso Boh Non so io Dovenderei così il video Con una roba così Vabbè io sto per il video